A Musa di Melito Portosalvo torna la Grande Sagra du Pipichinu, quinta edizione. Appuntamento il 12 agosto con la grande degustazione gratuita di uno dei prodotti gastronomici più buoni della Calabria. Alle 20 e 30 apertura Stance, a seguire alle ore 22 musica e divertimento con il concerto degli Eliacos. Quinta Sagra du Pipichinu, 12 agosto, dalle ore 20 e 30, Musa si veste a festa.